uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi finalmente dopo tantissimo tempo la patch 11.50 è arrivata la notizia è stata proprio resa nota ieri nella tarda serata e questa mattina dalle 10 siamo riusciti tutti a scaricare questo nuovo aggiornamento che ha portato una grande ventata di aria fresca al nostro gioco ma nelle notizie di oggi ci sono un sacco di cose interessanti parleremo di alcune novità per quello che riguarda ovviamente la season 2 soprattutto delle modifiche ai file di gioco che lasciano ben sperare ma vedremo anche l'arrivo di una delle skin più attese di questi ultimi mesi sì perché se ne parla già da quando in season 9 10 credo 10 ci fu il crossover fortnite la collaborazione fortnite x batman ovviamente mi sto riferendo alla skin di harley queen e poi ragazzi una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live dalle 8 alle 18 sulla piattaforma viola grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica del mio video delle 13 e 30 ma prima la domandina ve la devo fare oggi ragazzi ma oggi faccio la domanda classica proprio che era tanto che non la facevo molti di voi magari non l'hanno mai sentita quindi molto molto easy domandina facile ma qual è la tua skin preferita dai in assoluto la più bella per te qualche usi sempre quella che ti piace un casino la mia per chi non lo ricordasse beh è il love ranger mi piace tantissimo la presi nel febbraio 2018 la mia prima skin shoppata tutto il set ho preso ho preso la skin ho preso il piccone un casino meravigliosa dimmi qual è invece la tua skin preferita qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere una curiosità stiamo in questo momento osservando la durata di tutte le season di fortnite dalla prima del primo capitolo fino a quella di questo secondo capitolo 78 giorni 69 67 71 76 69 83 per la season 7 69 per la 8 di nuovo 83 per la season 9 73 per la 10 e guardate ragazzi 128 giorni per la season numero 1 del capitolo 2 qualora ovviamente il 20 febbraio si confermasse la data di cambio season insomma ragazzi lunghissima quasi il doppio delle altre season speriamo veramente di vedere qualcosa di incredibile e andiamo avanti con il nuovo argomento di oggi parlo della questione che ha colpito uno degli streamer più famosi al mondo di fortnite il signor nick e h30 l'ho visto da tantissimo che io vedo lui live non che guardo le sue live però so che bazzicava youtube ora invece è su twitch e il problema si è presentato durante la manifestazione del twitch rivals uno degli eventi più importanti sponsorizzati proprio dalla piattaforma viola beh si giocava in coppia e il signor nick e h30 insieme al suo compagno david morgan sono stati accusati di cheating il che è ovviamente una macchia che potrebbe sicuramente rovinare la carriera e la serietà di questo streamer che cosa è successo molto semplicemente nel twitch rivals c'era una regola interessante cioè i player non potevano spostarsi fino a che la safe non si muoveva da una zona a a una zona b qualora un giocatore o una coppia di giocatori si spostava prima della partenza della safe riceveva un avvertimento un warning non so credo che a due o tre warning c'era la squalifica ovviamente del team per quella partita la cosa strana è che ne ne nick ne h30 e ne david morgan sebbene si siano mossi più volte prima della tempesta abbiano mai ricevuto un warning quindi in poche parole era come se non venisse calcolato dal sistema che è il duo si stesse spostando anche se fosse vietato è una cosa che ha dato davvero molto da pensare agli organizzatori e soprattutto agli utenti che hanno guardato l'evento e vedremo ovviamente se ci saranno delle ripercussioni sul sul duo squalifiche o addirittura delle multe e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi eccola qua la nostra harley queen chi è harley queen beh innanzitutto harley queen secondo lo scenario comune è la compagna di joker il cerrimo nemico di batman tutti ci aspettavamo quando ci fu l'evento fortnite x batman con addirittura gotham city la location che prese il posto della ex tilted town che a sua volta ha preso il posto della vecchia pinnacoli futuristica non ricordo neanche più il nome che ci fu che sarebbe stata inserita anche la skin di harley queen questo non successe così come non abbiamo mai avuto il joker beh però ci sono delle notizie interessanti un informatore molto vicino a ep games se dice una voce che di solito è affidabile ha detto che ci sono delle informazioni per la nuova skin di harley queen potrebbe essere rilasciata il 6 febbraio alle 7 pm praticamente è l'orario in cui a loro cambia lo shop alle due del mattino per noi ci saranno delle sfide inerenti a questa skin per sbloccarne degli stili e soprattutto insieme alla skin di harley queen nello shop troveremo due nuovi picconi questa cosa è molto interessante oltre la fonte che è super affidabile la data è molto interessante perché il 6 febbraio al cinema esce birds of prey che vorrebbe dire rapaci tradotto in italiano scusatemi che è la fantasmagorica rinascita di harley queen quindi sarebbe veramente un giorno perfetto per farlo uscire e vi ricordo anche che qualche settimana fa vi avevo fatto vedere un video news dove nella nel tweet di warner bros dovrebbe essere qualcosa sotto warner bros anche questo via questo film warner bros o chi di occhi per lui pubblicava una foto dove c'erano l'attrice di harley queen e fortnite sotto gli rispose ci vediamo presto harley queen beh sono tre indizi di solito dopo tre indizi scatta direttamente l'accusa il che potrebbe veramente lasciare ampie speranze per l'arrivo di harley queen in game e siamo arrivati all'ultimo argomento di oggi ragazzi una cosa interessantissima un file cioè uno stream un leakers ha trovato nei file di gioco questo nuovo concept di deltaplano e come vedete è molto molto particolare ve lo faccio vedere un pochettino più grandi in modo da capirci meglio potrebbe essere un riferimento alla world war free insomma la terza guerra mondiale no dove scenario per alcuni videogiochi usciti nei mesi precedenti e probabilmente un richiamo anche da parte di epic games non si sa assolutamente nulla di questa cosa solamente questa immagine presente nei file di gioco quindi appena saprò di più saprete di più anche voi insomma ragazzi anche per oggi le news le sappiamo io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi siamo in live ciao ciao ciao